L'idea dei tamponi è nata dopo un confronto con la preside per riuscire a garantire un rientro in sicurezza dagli alunni dopo le vacanze di Natale. Tutto si è praticamente organizzato con un confronto, un pensiero, dopodiché abbiamo messo a disposizione la somma per quanto riguarda il bilancio comunale, individuato una farmacia che fosse in grado di fornirci i tamponi per la quantità necessaria e dopodiché abbiamo organizzato con la protezione civile la consegna del materiale alle famiglie cantellesi. Diciamo che questa è un'iniziativa di cui avevamo già discusso io e il Sindaco più o meno agli inizi di dicembre e soprattutto durante il periodo delle vacanze natalizie a seguito dell'aumento dei casi di positività anche tra i nostri studenti, abbiamo pensato di proporre questa iniziativa come forma di implementazione alle già norme e regole del nostro protocollo anticontagio per garantire ai nostri studenti un rientro a scuola in sicurezza. Riguardo all'iniziativa assunta dal Comune di Cantello, anche come rappresentante di classe della scuola primaria, abbiamo accolto con grande entusiasmo l'iniziativa dotata dal Comune di Cantello che ha permesso anche a noi genitori il rientro in sicurezza dei nostri bambini, quindi anche col clima che alleggia un po' particolare in questo periodo riguardo al boom di contagi ci ha permesso di stare un po' più tranquilli, quindi anche la dirigente sul punto è stata, secondo me la posso definire così una grande, nel senso che si è adoperata e ha insistito tantissimo ottenendo appunto il risultato. Come insegnanti della scuola primaria, ex scuola elementare, abbiamo accolto con piacere il fatto dello screening per tutti gli alunni, la distribuzione del kit per i tamponi per tutte le famiglie e per tutti gli alunni. Indubbiamente è un primo passo per cercare di prevenire la diffusione all'interno della scuola per fare in modo che la scuola rimanga un ambiente sicuro dove poter lavorare in serenità sia gli alunni che tutto il personale della scuola.